Abbiamo presentato la DMO Enogastronomica, un'iniziativa importante, quella di Slowbook. Ci presentiamo un tascabile che accorpa in un unico prodotto tutte le strade del vino della regione siciliana. Sono 12 strade del vino, sono raccolte tutte le eccellenze legate alle produzioni vitivinicoli. È uno dei tanti interventi che l'assessorato regionale del turismo sta facendo per rendere sempre più uniforme l'offerta turistica siciliana e nel particolare quella della DMO Enogastronomica. Così ci presenteremo insieme anche con l'assessorato regionale dell'agricoltura al Vinitaly nel modo migliore. Le levi del vino sono le 12 strade note per la produzione dall'Etna Rosso al Nero d'Avola, al Nerello Mascalese, al Cerasuolo di Vittoria, quelle del Trapanese, della zona di Alcamo, sono quelle ben note che troverete meglio all'interno della nostra guida. Il 22 aprile la presenza del governo della regione siciliana a queste iniziative di Assovini rappresenta un passaggio importante allo sviluppo della DMO Enogastronomica. Assovini è un patrone d'eccellenza e questo rapporto lo vogliamo sempre più valorizzare e rendere funzionale all'offerta turistica siciliana. Assovini è un patrone d'eccellenza.